Partiamo dall'incontro della settimana scorsa con il procuratore del giocatore. Lei si aspettava una risposta negativa alla proposta del Milan? È stato un fulmine a ciel sereno o c'era già qualche sentore che stava cambiando la posizione del giocatore? Un po' me l'aspettavo. Non posso dire che sia stato un fulmine a ciel sereno perché abbiamo vissuto questi due mesi con una dicotomia di pensiero tra quello che Raiola tutte le volte che lo sentivo mi diceva, con grande coerenza fin dall'inizio vuoi una risposta troppo presto, noi dobbiamo prenderci i nostri tempi, dobbiamo valutare il progetto e quello che invece mi diceva Gigio tutte le volte che lo incontravo, che lo guardavo negli occhi l'ho sentito ancora un paio di giorni prima che Raiola venisse a darmi questa notizia al telefono gli ho fatto una telefonata mentre era in ritiro e quindi Gigio mi diceva voglio stare al Milan voglio rimanere, voglio stare con voi. Raiola mi diceva che i tempi non c'erano e quindi ero curioso ma anche un po' preoccupato che alla fine arrivasse quel tipo di risposta Una risposta a una scelta che comunque è legittima per quanto riguarda un professionista però magari ci si aspettava un comportamento diverso perché a questo punto il danno sportivo si affianca anche al danno economico e a un anno dalla scadenza del contratto sarà importante come danno Sì è così, nel senso che ho letto da qualche parte che qualcuno ha voluto ricondurre le ragioni di Gigio o di Raiola sul tema della legittimità che nessuno può mettere assolutamente in discussione è perfettamente legittimo che un giocatore decida alla fine di un contratto di percorrere una strada diversa quello che a me dispiace di questa storia è che a fianco della legittimità c'è sempre un'etica che in particolare nel calcio è importante che venga perseguita un'etica che è particolarmente importante nel caso di giocatori come Gigio che qui hanno trovato un ambiente che gli ha permesso di diventare quello che sono diventati Gigio è un figlio del Milan, è un ragazzo straordinario che è diventato uno dei portieri più importanti del mondo perché il Milan ha messo lui e la sua famiglia nella condizione di diventarlo perché due allenatori che si sono susseguiti negli ultimi due anni hanno avuto il coraggio di mettere nella porta nostra un giocatore di 16 anni e di 17 anni perché vivono in una casa nostra perché c'è un ambiente che rende Gigio un giocatore del Milan e queste cose hanno un valore, non è un giocatore qualunque quindi io mi aspetto che una scelta di questo tipo se deve essere fatta nella piena legittimità venga fatta senza mettere il Milan in un angolo, senza metterci noi nella condizione di poter essere ricattati si mette una clausola sul contratto, si rinnova il contratto, si dice direttore io voglio andare via alla fine del percorso che ho fatto con il Milan il mio valore è X, lo scriviamo e quando arriva un bel club che ci porta al valore X sei contento tu che vai via, io sono scontento comunque perché ti perdo ma almeno non ne ho un danno economico quindi legittimità certamente non si discute ma un po' più di attenzione a questi aspetti non mi avrebbe fatto dispiacere Nelle ultimissime dichiarazioni del procuratore del giocatore si è parlato come motivazione quasi principale del rifiuto della proposta del Milan di questa situazione ambientale, un ambiente ostile, delle minacce fatta arrivare al giocatore, alla sua famiglia secondo lei è una spiegazione un po' riduttiva di quello che è veramente la situazione Donnarumma-Milan? È un ribaltamento della realtà credo che tutti sappiano e abbiano visto l'amore e l'affetto di tutti i tifosi verso Gigio io ho fatto poche partite quest'anno allo stadio come dirigente della società ma era palpabile come Gigio fosse l'eroe del Milan per la nostra curva era palpabile l'affetto quando lui andava ad occupare la porta sotto la nostra curva quindi il ribaltamento della realtà nel dire non rimane perché la gente gli è ostile è proprio un voler opporre gli opposti, scusate il paradosso la gente adesso è contro Gigio perché ha percepito o intuito una scelta che è una scelta come abbiamo detto prima assolutamente legittima ma orientata ad aspetti economici o tecnici e non influenzata da quelli che sono le altre cose che nella vita teniamo di solito in conto quando si prendono decisioni così importanti A proposito di tifosi, ieri durante la partita dell'Italia all'Europeo Andre 21 c'è stata una contestazione abbastanza forte insomma il lancio di dollari, soldi finti in campo lei si sente di dire qualcosa ai tifosi visto che ha il polso anche di quella che è la situazione il sentimento del tifo verso Donnarumma I tifosi stanno manifestando, lo sento, lo leggo, lo vedo il loro disappunto, il loro dispiacere che assume delle forme che ogni tanto sono anche velenose sono anche cattive, sono anche pesantemente critiche credo che Gigio un po' l'abbia messo in conto nel senso che nel momento in cui prendi una decisione di questo tipo non puoi aspettarti che i tifosi rimangano professorali nel dire ah ma guarda che intelligente quindi quando le critiche sono critiche anche salaci e forti direi che fanno parte del gioco e fanno parte delle previsioni nel momento in cui Raiola ha detto ieri e io spero che non sia vero che a Gigio addirittura sarebbero state recapitate minacce di morte o minacce importanti per lui e la sua famiglia questo vuol dire che si va oltre questo non è più tifo, non è più sfottò, non è più critica è un qualcosa che condanno con tutta la fermezza mia e di tutta la società e ci tengo a ribadire come ho già detto a Raiola anche a Gigio la totale e assoluta eventuale protezione da parte della società nei confronti di estremi che mi auguro davvero non ci debbano essere i tifosi del Milan che ho conosciuto io non ce l'hanno questo nelle corde se questo è successo non vorrei che siano degli eccessi che ogni tanto ci sono nella vita e che faremo il possibile perché non accadano altra critica rivolta dal procuratore alla società riguarda i tempi, secondo lui troppo ristretti troppa pressione sul giocatore sì ma anche questo cioè il dare come spiegazioni i tempi piuttosto che gli atteggiamenti, le cose è abbastanza evidente fin dall'inizio glielo ho detto caro Mino, noi dobbiamo sapere prima che inizi la stagione se Gigio rimane o se Gigio non rimane io non tengo un giocatore in scadenza che sia lui o che sia un altro senza avere la possibilità di avere in rosa un qualcuno che lo possa sostituire sappiamo che i giocatori in scadenza possono avere comunque aspetti psicologici di mancanza di serenità possono pensare ad altro possono pensare ad un'altra squadra possono avere isolamento nello spogliatoio rispetto ad altri compagni possono sentirsi fuori dal progetto tecnico io queste cose le devo sapere prima la stagione per me inizia il 3 di luglio siamo alla metà di giugno hai avuto due mesi di tempo l'offerta è molto chiara gli elementi sono tutti sul tavolo non mi dire che abbiamo esagerato nel metterti pressione due mesi sarebbero stati più che sufficienti probabilmente è mancata la volontà proprio per quella che sarà anche la condizione psicologica del giocatore è così incedibile perché non monetizzare subito da un'eventuale cessione seppur il suo valore di mercato a un anno della scadenza sia molto ridotto rispetto a quello che è l'effettivo valore di Donnarum ma questo secondo me va a sostegno anche della nostra proprietà io apprezzo quello che Mr. Lee su questa vicenda che segue quotidianamente con me mi fa percepire noi non avevamo messo a budget non abbiamo bisogno che qualcuno venga qui a farci l'elemosina dei 15 o dei 20 milioni per Donnarum Donnarum vale infinitamente di più è un giocatore che a prescindere che abbia un contratto di un anno o di tre anni o di quattro anni vale molto di più e quindi se vorrà andrà via libero alla fine della stagione 2017-2018 in questo momento noi pur rimanendo aperti tutte le offerte che riceverò le valuterò le analizzerò ma abbiamo una strada molto chiara che abbiamo detto a lui che abbiamo detto ai tifosi Donnarum rimane qua se qualche club lo vuole paga lui per il valore che realmente ha altrimenti Donnarum rimane qui fa questa sua stagione con noi e l'anno prossimo sarà libero di fare le sue scelte Il Milan si sta comunque cautelando si sta muovendo sul mercato dei portieri che profilo state cercando? Stiamo cercando un portiere da Milan che possa prendere la porta che abbia l'esperienza giusta e le qualità per poter fare il titolare in modo tale che Montella quando rientra dalle sue meritate vacanze si trovi a disposizione una rosa che gli permetta di poter fare delle scelte oculate di non trovarsi in una condizione obbligata quindi Mirabelli da qualche giorno a questa parte si è messo ventre a terra dandosi come priorità quella di trovare un ottimo portiere ne sta analizzando tanti sta incontrando società agenti mi presenterà credo un quadro delle sue analisi a brevissimo e l'obiettivo resta quello avere comunque un portiere in più e poi Montella valuterà come gestire la rosa a proposito di Mirabelli è stata criticata da parte del procuratore anche la condotta all'atteggiamento del nostro direttore sportivo ma anche questa glielo dicevo a Mino i tempi troppo ristretti la gente che usa dei termini o della voce troppo aggressiva insomma se l'obiettivo di Mino nel dire queste cose era quello di dire ci sono due Milan all'interno non vanno d'accordo gliela rimbalzo proprio al mittente con la stessa serenità io e Mirabelli siamo una cosa sola abbiamo stili diversi e complementari ma tutto ciò che facciamo lo facciamo assolutamente all'unisono con una condivisione totale dei piani dei progetti e delle strategie se poi c'è proprio un caso in cui fin dall'inizio siamo andati dritto per dritto su una strada di totale trasparenza e chiarezza è quella di Donna Roma Donna Roma ti vogliamo bene ti consideriamo forte sei un nostro uomo rappresentativo del progetto futuro ti abbiamo fatto un'offerta molto bella che poi Mirabelli abbia usato un termine diverso da quello che magari avrei usato io credo che faccia anche il bene ma io e Mirabelli siamo il Milan non ci sono due Milan senta dottor Fossone qualcuno sta trovando delle analogie sta paragonando la situazione del Milan con quella di Conti la trattativa tra Milan e Atalanta per Conti che risposta vuole dare? anche qui è veramente incredibile io ho parlato di questo giocatore dell'Atalanta senza misteri con Luca Percassi da quando abbiamo fatto l'incontro per Chessi gli ho detto è un giocatore che ci interessa abbiamo una disponibilità economica di un certo tipo siamo disponibili a parlare con te l'Atalanta è assolutamente al corrente credo con Luca di averne parlato tre o quattro volte è evidente che una settimana o dieci giorni fa io abbia incontrato anche la gente del giocatore al quale ho detto la stessa cosa non stiamo parlando di un giocatore a scadenza ma di un giocatore che ha una scadenza del 2020 quindi non c'entra niente con Donnarumma noi stiamo trattando anche altri giocatori a scadenza ma l'importante è che la società sia in contatto con l'altra società in modo molto chiaro e dica all'altra società noi siamo interessati al tuo giocatore nel caso Donnarumma io non ho ricevuto una telefonata da una società che mi abbia detto che è interessata al nostro giocatore ho soltanto parlato con la gente mi pare che le differenze si commentino da sole ultimissima cosa si è parlato anche di un possibile margine per ricucire la situazione tra il Milan e Donnarumma sicuramente Gigio teneva moltissimo a questa squadra e probabilmente ci tiene ancora questo club a questo punto il Milan sarebbe disposto a riabbracciarlo immagino sì l'ho detto e non ci conto tanto ieri Raiola nelle sue dichiarazioni ha lasciato un piccolo spiraglio una porta aperta al futuro mi ci butto dentro per ritrasferire a lui e al giocatore che noi saremo felici di abbracciarlo saremo felici se lui ci ripensasse ci dicesse che ha voglia di fare tanta strada ancora insieme con noi e sono anche sicuro che la situazione un po' di tensione che si è generata con una parte dei nostri tifosi si riappianerebbe alla fine gli vogliamo tutti bene spero che questo possa accadere non mi faccio molte illusioni al proposito ma gli confermo che l'abbraccio sarebbe forte e da parte di tutti la palla è nella metà campo del Milan come dice Raiola oppure è in mano al giocatore il pallino adesso della situazione la palla rotola non c'è uno dei due che debba prendere una decisione noi vogliamo Donnarumma lui per adesso ci ha fatto sapere che preferisce non rinnovare il contratto io con Raiola mi sento con buona frequenza Gigio dopo la sua esperienza nell'Under 21 rientrerà in ritiro con noi e ci vedremo tutti i giorni le occasioni per chiacchierare saranno molteplici e chi vivrà vedrà molteplici